Parcheggiare la macchina in un garage a Napoli sta diventando un lusso. Una sosta oraria infatti, a seconda delle dimensioni della vettura, può arrivare a costare dai 6 ai 15 euro. Situazione che diventa ancora più complessa in occasione di partito eventi, quando le tariffe ricevono un'ulteriore impennata. Il mondo dei parcheggi nel capoluogo campano è una giungla parola degli utenti. Con la città invasa di turisti e lo shopping natalizio che incalza, le strade della città esplodono di vetture e trovare uno stallo nelle strisce blu è diventata quasi un'impresa. A complicare ulteriormente lo scenario, i parcheggiatori abusivi che presidiano le vie. Insomma, trovare un posto appare spesso impossibile. Non sorprende allora che gli utenti della strada si rivolgano ai privati, i cui prezzi però crescono sempre di più. Una sosta giornaliera può arrivare a sfiorare, per i mezzi di grosse dimensioni, anche i 120 euro. Nulla di illegale, ma c'è chi se ne approfitta. In assenza di alternative, gli automobilisti sono sempre più esasperati. Siamo mediamente in una giungla qua e abbiamo difficoltà sia a parcheggiare che a trovare persone educate più che altro, sia nei parcheggi e nonno. Ci marciano sopra. Parcheggiare a Napoli, penso che sia difficilissimo parcheggiare a Napoli, però se impari a Napoli impari ovunque, quindi un po' come guidare. Quando vado allo stadio, un minimo è 5 euro, minimo, ma se ti va bene anche 10 euro. Troppo maggiorati, soprattutto quando ci sono le partite del Napoli, oppure feste private tipo in città. Esagerano, prendono un po' il dito con tutta la mano, diciamo a Napoli. Non è un granché la situazione parcheggio, però ci sono più garage, ci sono parecchi garage. Il problema è che al centro sono cari.